Fenomeno migranti e cassibili, la LOSI, regolarizzazione per i diritti ai lavoratori. Sono circa 300 i migranti accampati nelle campagne di Cassibile che ogni giorno si adoperano per trovare lavoro nei raccolti di stagione. Un duro lavoro sottopagato con il continuo rischio, per alcuni di loro, di essere scoperti ed espatriati perché irregolari sul territorio nazionale. Ma sono irregolari perché non assunti dalle aziende. Un male atavico che fa il pari con un altro grande problema con cui i migranti si misurano giornalmente, il caporalato. Una questione di cui ci occupiamo da anni, commenta Roberto Alosi, segretario generale della CGL di Siracusa. Con la FLAI abbiamo dato vita a diverse campagne per sostenere questa fascia di lavoratori che oggi sono leve su cui ruota la nostra agricoltura. La condizione in cui ogni anno sono costrette a vivere, capanni arrangiati sotto gli alberi con teli e cartoni, è davvero disumana. Una situazione a cui la regione, grazie al significativo intervento di Claudio Fava, con cui ci siamo confrontati a lungo su questo tema, ha deciso di porre fine stanziando 300.000 euro per la realizzazione di alloggi prefabbricati destinati all'accoglienza dei migranti impegnati nelle campagne cassibilesi. Ma la CGL oggi può parlare di un bilancio più che positivo anche per un altro importante traguardo raggiunto, la regolarizzazione dei migranti. È un traguardo storico dopo anni di battaglie condotte dalla FLAI CGL. L'emergenza sanitaria ci ha offerto l'occasione per chiedere azioni urgenti per la tutela dei migranti nei ghetti affinché non fosse dimenticata questa fascia di lavoratori che hanno continuato ad assicurare disponibilità di cibo sulle nostre tavole. La CGL in questa battaglia si è trovata a fianco tantissime realtà associative, ma anche singoli cittadini. Le misure previste dal provvedimento potranno consentire di porre fine alla vergogna dei ghetti con la possibilità di svuotarli grazie a un'accelerazione del piano triennale contro il caporalato e a un lavoro sinergico tra Ministero per il Sud e la coesione territoriale, regioni, prefetture, protezione civile e Croce Rossa. Il decreto apre una prospettiva di uscita dai sorprusi, dai ricatti e dall'assultamento. Ne beneficeranno anche i lavoratori italiani perché non potranno essere più ricattate dalle aziende che sfruttano con la minaccia di trovare monodopera a più basso costo. Fino ad oggi sono poche le aziende agricole che regolarizzano i migranti impegnati nelle campagne e che riconoscono loro la paga giornaliera contemplata nei contratti nazionali. Il nuovo decreto dunque va a rafforzare la legge contro il caporalato e sostiene le condizioni per un corretto collocamento, accoglienza e prevenzione istituendo le sezioni territoriali per il lavoro agricolo di qualità su cui la CGL di Siracusa vigilerà.